buongiorno amici RC Fishing Boat oggi siamo qui in vostra compagnia per effettuare un test molto veloce e snello sul xpilot montato sul modello predator quindi il nostro predator quello vecchio ecco mettiamolo così quindi il penultimo modello semplicissimo da montare come operazione veramente molto 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 easy adesso andiamo a vedere abbiamo memorizzato un punto come target allora andiamo a vedere qui cosa ci dice andiamo al target una volta arrivati al target posso azionare i vani pastori in automatico abbiamo il ritorno alla base automatico e posso confermarlo oppure no quindi possiamo effettuare questo questa selezione facciamolo adesso partire avrà ritorno automatico in questo caso alla home position bisogna effettuare un corretto setting del timone che deve essere compreso tra 1.8 e 2.5 massimo poi l'ho provato una volta arrivati allora siamo arrivati allo spot e mi dice tornare quindi faccio sì che la barca rientra in automatico e noi gli avevamo detto di sì quindi di conseguenza adesso la barca sta rientrando in automatico la home il sistema è davvero molto semplice da montare semplice da installare è iper iper facile si monta in due secondi questo è il controllo della barca tramite il joystick tramite il joypad quindi veramente destra sinistra timone avanti e indietro per quanto riguarda le impostazioni noi adesso qua abbiamo collegato anche le le luci quindi abbiamo messo un sistema di controllo lucida remoto che si può attivare vedete qui adesso io vado ad attivare chiaramente le funzionalità che possono essere gli sganci pastura rilascio terminale e tutte le impostazioni che vengono date dal barchino in questo caso abbiamo inserito le luci automatiche quindi premendo questo pulsante le luci si accendono adesso non so se si vede se si accendono si poco perché c'è un sole esagerato e automaticamente si accendono oppure si spengono ok qui abbiamo la home position e tutti quanti i vari target o punti che possono essere memorizzati e la distanza dalla riva la velocità in metro al secondo abbiamo la cartina che può essere più o meno zoomata e tutte le info quindi per andare al nostro target basta selezionare il tasto rosso del gps selezionare il nostro target gli dico di andare sul nostro target la barca dove è e prende parte e va molto molto semplice può essere installato su un barchino qualsiasi che abbia elettronica da monelismo sui modelli predator vecchi oppure i modelli explore adesso la facciamo tornare quindi in questo caso back to home yes è sempre un po un dramma con questo sole perché pieno di riverbero e sul display è veramente difficile mantenere un'inquadratura corretta senza far vedere i riflessi però dai direi che ci siamo questa è la barca che è arrivata per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente oppure sui setting inviarci un'email o contattarci direttamente al nostro numero telefonico e nel caso poi vi spieghiamo qual è la configurazione del setting migliore per la vostra barca in questo caso il predator oppure il modello explore ciao ragazzi alla prossima ciao